Benissimo, passiamo allora alla prossima esibizione, è un trio, è un trio composto da Alessia, Francesco e Lorenzo, io intanto accendo la luce del mio salotto, c'è qualcuno del trio? Ah, sono qua, io li guardavo di là e sono qua, ciao, benvenuti, mi manca uno, ecco a te, allora accendi pure, aspettami, forse è questo? Ok, Alessia, il viso è già conosciuto perché possiamo dirlo, è il pregito di televisione del teatro dei sogni, giusto? Sì Com'è stata questa esperienza, bella? Una bellissima esperienza e, insomma, incoraggio tutti a farla perché è davvero una cosa fuori, cioè nel senso ti porta nella musica, ti porta a vivere il tuo sogno e secondo me è una bella esperienza che dovrebbero fare tutti coloro che hanno questa passione Allora, è serio, noi tutti abbiamo visto come solista in duo, in coppia con Francesco e stasera c'è anche Lorenzo Esatto Lorenzo che è quello che ha i capelli lunghi, mi sa, vero? Proprio lui Eccolo là dietro Bene, cosa ci presentate stasera? Allora, oggi cantiamo Always I Remember This Way e, niente, è una canzone di Lady Gaga, Lorenzo, siccome non lo conoscete, suona la chitarra, Francesco, l'avete già visto cantare con me e suona il piano e io canterò E tu canti, ma voi siete comunque amici anche fuori dal palcoscenico, giustamente perché frequentate la stessa accademia Allora, diciamo che ci siamo conosciuti tutti quanti qui a questi eventi di Alex, è la prima volta che suoniamo tutti e tre assieme, mentre con Francesco abbiamo già suonato un paio di volte, sempre per gli eventi di Alex Esatto Esatto Quindi se Alex mi dà l'ok, io ti rimando in scena, ah ma ci sarà un momento di accordo Vabbè, Alessia, ti volevo chiedere, avete degli spettacoli futuri, qualcosa dei progetti futuri? Allora, abbiamo intenzione di pubblicare qualche cover su Youtube e magari se riusciamo anche su Spotify e altre piattaforme digitali, cover e magari, non lo so, in un futuro potremmo riuscire a scrivere una canzone, vediamo Beh, sarebbe l'apotevolo di poter scrivere un pezzo vostro e che abbia successo soprattutto Speriamo Alex, siamo pronti? Benissimo, allora, Alessia, io ti lascio andare Sto guardando perché c'ho il fare un puntato in faccia, quindi vedo delle ombre, non vorrei che fosse Giuseppe Verdi prima che alleggia qua in scena Però c'ha la mascherina, quindi è Alex, non è lui, eccolo qua Beh, intanto facciamo veramente un grosso applauso ad Alex perché Mi fa segno che è tutto pronto, quindi buona Sì, Alex può usare questo microfono? Perfetto, buona esibizione allora A voi il trio Alessia, Francesco e Lorenzo 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 Alessia Alessia, Francesco e Lorenzo